Ciao a tutti ragazzi sono io Mirko della The Grado Family e oggi c'è il sugo fest di Buggy il Clown Allora partiamo subito, avrò 5 opening a disposizione, vediamo Sinceramente non mi entusiasma molto questo sugo fest Oro, molto bene Blueno, ok l'unico della CP9 che non aveva ancora Questo non è malissimo, ci sta Vai passiamo al prossimo, sinceramente io c'è di questi qua rate boostato, visto che ci sono i rossi Potrei trovare l'Isabella oppure il Sanji Timeskip Allora un altro oro, perfetto Atmos Atmos, boh non ce l'avevo onesto dai Eh niente, facciamo un Cell arrogante così veloce Vendiamo un Sanji del cazzo Tanto, cioè non ho altre versioni di Sanji a cui dare i socket Quindi molto bene, arrogante Ok vai, passiamo con le ultime 3 opening Speriamo in bene perché sinceramente Anche se la scorsa volta ho avuto un culo estremo Quindi va benissimo Eh questo non va bene Eh niente, gli argentoni tarocchi Cioè gli oro tarocchi Non sono mai ben graditi Vediamo Argentone ecco eh, si parlava di oro tarocchi Argentone, cobi Ah un cobi fest Perfetto Ultimo opening Vediamo subito Oh Ole oro, ok Dai ti prego uno bello Califa Vabbè ce l'avevo già Ok va bene ragazzi Questo sugo fest finisce qua Spero che a voi sia andata bene Se avete voglia commentate per sapere cosa avete trovato E ci vediamo al prossimo Ciao a tutti ragazzi Sono Bruno della Degrado Family E oggi facciamo un bel re-recruit Siccome c'è il sugo fest di Buggy Abbiamo 25 gemme Quindi potrò farci in copertura E iniziamo subito Oro Ok ok iniziamo bene E troviamo Niente Un laffi Eh niente Gear 2 Sempre i soliti Andiamo avanti Un altro oro Ok Andiamo Ok Un cavallo che sta sputando Boh sembra nel sugo Ci sta Doc Q Ok uno slasher Striker Non ho voglia adesso di guardarmi Di mettermi a leggerti Quante le Le abilità E le special Un altro oro Ma è 3 oro Incredibile Sembra che stiano aumentando Eh signor G qua Laog 10 gemme Dai Speriamo In Buggy Non sarebbe per niente male Eh Argentone L'ho un po' tirata No Ancora lui Che è ciaca Ma è Lo trovo in ogni episodio Ma non mi ricordo mai Come cazzo si chiama Ultimo Speriamo Dai 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 Niente un altro oro E Figo Mi sa che l'avevo trovato anche l'ultima volta Giabra Mi sa di si Vabbè powerhouse comunque non li uso Va bene Se il video vi è piaciuto mettete mi piace Bella a tutti ragazzi Bentornati sulla Degrado Family E con un nuovo sugo fest incredibile Oggi abbiamo 27 gemme Non sono tante si però speriamo sempre di trovarla qualcosa La leggendaria come al solito noi speriamo di trovarla Abbiamo vediamo che c'è sicuramente c'è un str rate boost Quindi di personaggi rossi E niente Deve andare ad aprire Perché altrimenti siamo quasi a incischiare E non combiniamo niente Quindi Andiamo Subito il primo Pum Argentone Ehehehe Ahiaiaiaiaia Dio l'altro tra col pennello Male 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 Allora facciamo un po' così Facciamo un po' così Pum oro, va bene, oro, oro, not bad l'oro non è buono, ma non è male oddio no, questo è un argento nevoluto sono sicuro, non sono sicuro vediamo, ci guardo ma questo deve essere questo è un argento nevoluto sul tempo ci guarderemo ci guarderemo dopo con più calma ragazzi bene, comunque secondo un oro troppo, questo non so, metterei un punto interrogativo che non sono sicuro, un altro oro, bene bene, bene che stiamo carburando, va bene mi piace, mi piace, questo non ce l'ho non so chi sia Gesù, Gesù, Gesù è lui, è il grandissimo Gesù, non so quella faccia, però va bene, l'importante che sia nuovo, l'importante che sia nuovo è che si stanno dando degli oro questo è l'importante, vai 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 in bolla, veloce veloce, un altro, boom via così, uh altro oro, va bene così, vai vai in bolla in bolla, oggi lo vedo che è in bolla questo bello potrebbe, non so se interessante ma potrebbe non essere male, diamante non potrebbe non essere male potrebbe non essere male, comunque oggi siamo proprio in bolla, oggi vedo, vedo che il gioca è in bolla ci sta dando della roba di grebile eh niente, è niente, è niente è niente, eh niente madonna mia sto coglionazzo sto coglionazzo che c'è da comunque beh ragazzi abbiamo fatto veloce, rapido abbiamo trovato qualcosa di interessante qualcosa di no sicuramente secondo me le cose più importanti sono questo, questo è Gesù abbiamo trovato Gesù abbiamo trovato il titolo clickbait ragazzi ma che sta a dire e diamante dovrebbe essere delle cose interessanti gli altri devono dire che vanno abbastanza a cagare bella, bella ragazzi vi ricordo come sempre se vi è piaciuto questo video di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale bella ragazzi noi ci vediamo con un prossimo sugo fest grazie a tutti grazie a tutti Grazie.